Il gossip ne è certo. Alfonso D'Apice stasera entrerà al grande fratello. E non fatichiamo a crederci. Dopo che Federica Petagna ha mollato il suo ex fidanzato, dopo otto anni, l'ha al termine di Temptation Island per frequentare il suo tentatore Stefano Tediosi, lui è pronto a entrare dalla Porta Rossa. A lanciare l'indiscrezione è Giuseppe Candela, nella sua rubrica su D'Agospia, a lume di Candela, Alfonso Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d'Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docu-reality prodotto da fascino con il fidanzato Alfonso D'Apice. La coppia ha interrotto al falò il viaggio nei sentimenti ma il reality di Canale 5 li riporterà sotto lo stesso tetto. Alfonso parteciperà al grande fratello in qualità di concorrente. E qualora stasera davvero Alfonso entrasse nella casa non sarebbe una sorpresa per nessuno, neanche per la sua ex fidanzata. Nelle scorse ore infatti è stata proprio Federica a dire a una sua compagna che secondo lei Alfonso sarebbe entrato nella casa. Il secondo Amedeo Venza, esperto di gossip, ha un solo obiettivo, riconquistare Federica. Classe 99 Alfonso ha 25 anni e vive a Napoli e nella vita è direttore di un locale specializzato in organizzazione di eventi. Sui social network Alfonso è presente con una pagina privata e una pubblica su Facebook, oltre che con un account su Instagram. Ha inoltre mantenuto un profilo di coppia su Facebook con Federica, anche se ormai per lo più inutilizzato. Dopo il suo ultimo confronto a uomini e donne con la sua ex fidanzata, si è fatto un nuovo tatuaggio. Chi ama, l'ama sempre. E questo è tutto. Voi cosa ne pensate?